Signore e signori, buonasera, bentornati qui da TV Pineto, da Gianluca Lonzo e Remo Di Sante dietro la telecamera. Bene, è Natale, è appena trascorso, quindi oggi cercheremo, come dire, noi gufetti cerchiamo di essere un po' un attimino più, fare una puntata buonista, anche se per noi è difficile farla, perché gli argomenti di cui parlare e sparlare ce ne sono a bizzeffe, però quantomeno cerchiamo di contenerci. Che è successo in questo periodo di Natale a Pineto? Tante cose, tante manifestazioni per i bambini, anche per i più grandi, tutte cose particolarmente piacevoli quando è il periodo di Natale. Se non fosse che però Pineto secondo noi ha necessità impellente di qualche risposta un po' più seria e concreta per quanto riguarda tanti temi che per il momento noi non vediamo ancora affrontati. Parliamo di urbanistica, parliamo di economia, parliamo di tasse. No, 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 in realtà le tasse sono state toccate in peggio, ahimè, però comunque qualcosa è sicuramente stato fatto da quel punto di vista. Però va bene, insomma dai, Remo, cerchiamo di essere buoni, oggi facciamo solamente i saluti a tutti quanti quelli, tantissimi che fino adesso ci hanno visto e ci ringraziano. Io personalmente incontro tanta gente per strada che mi ferma e che mi dice che vorrebbe parlare, che vorrebbe partecipare, che ha argomenti da discutere. Noi come al solito siamo qui, noi pubblichiamo su Google+, su YouTube, su Facebook soprattutto e chiunque ci volesse contattare, se è come dirsi vergogna a farlo pubblicamente su Facebook, ci può anche contattare con un messaggio privato. Noi siamo qui, mettiamo la nostra telecamera e il nostro microfono a disposizione di tutti per qualsiasi argomento serio, scherzoso, tutto quello di cui volete parlare ci potete contattare. Detto questo, caro Remo, salutiamo i nostri telespettatori, tanti auguri a tutti, buon Natale e buon anno dai vostri cofetti. Arrivederci.